Terzo spazio di Telebari Social Night, dopo due blocchi estremamente seri ed istituzionali arrivo io e rovino tutto. Vi porto qui in studio un content creator che sta sconvolgendo il mondo di Instagram, di chi sto parlando? Rwm. Come è andata la festa di San Nicola quest'anno? L'aspettavamo perché dopo due anni e mezzo ci ha rovinato un po' di pioggia. E' stato bello che non l'hanno fatto, non l'hanno fatto come una volta, però l'hanno fatto. I turisti sono arrivati per San Nicola? Sono trovati in arrivo, non accadono noi, non vogliono spendere neanche 100 euro. Lei lo sa che Putin è un grande devoto di San Nicola? Lo so, lo so. E' anche devoto di San Nicola, la verità non lo sapevo questo. E' un criminale assassino, quello è il vero criminale del mondo, il paese di Tegra. Fai la pace, tu sei stato grande per San Nicola. Mettici una pezza sopra. Guarda, c'è il cuore di Cain, il paese di Cain, il cuore delle Tegre. Basta questa guerra, basta, non la vogliamo vedere più, non la vogliamo sentire più, basta. Come va che è attaccato questa guerra? Non so, non capisco di guerra. Per chi vuole gestire, se la guerra vuole gestire, io voglio prestare, io voglio prendere, io voglio pagare questi cacchi di tazze. San Nicola è una persona allegra, non è una persona che, no, devi fare, no, è allegra, è la persona della famiglia. Vuole salutare San Nicola. San Nicola? Vuole salutare San Nicola. Ciao San Nicola, qui in studio abbiamo Mattia De Martino, ben arrivato. Buonasera, grazie all'invito, buonasera a tutti. Secondo me quando è annunciato la content creator si aspettavano la signora rosa delle orecchiette. Tu dici? Sono rimasti un po' delusi gli amici da casa. Ma tanto a prescindere, secondo me, content creator non hanno capito. È uno che crea contenuti sui social. Esattamente. E tu in persona con la pagina di Borghetti 1 euro. Borghetti 1 euro che dal 2014 ci fa compagnia. Fa compagnia anche a me, fa compagnia a tutti. Pure a me, pure a me un sacco. Come nasce questa idea? Allora, l'idea nasce ed è legata al nome nel 2014, come dicevo, perché mi chiesero di fare, di realizzare un format legato all'epoca al Foggia Calcio. Quindi bisognava trovare un nome di corsa, Borghetti 1 euro, perché il caffè Borghetti, il caffè sport che si vende allo stadio, che all'epoca costava 1 euro, adesso con gli aumenti mi hanno detto che... È aumentato pure quello. Noi però siamo rimasti fedeli, abbiamo aumentato i prezzi, quindi Borghetti 1 euro, potevamo fare Borghetti 2 euro, però insomma, va bene così. E quindi Borghetti 1 euro perché è legato in qualche modo allo stadio, perché il format veniva realizzato all'interno e all'esterno del Pino Zaccheria di Foggia, poi le cose sono un po' cambiate, siamo scesi per strada fino ad arrivare a Roma, a Napoli, a Bari, a Sanicura. Ho visto. Quelle due volte che ci sono stato allo stadio me lo ricordo. Borghetti, Borghetti... Esattamente. Stupendo. Quindi questo nome è legato allo stadio? È legato allo stadio, è legato allo stadio, un nome fresco, un nome piuttosto web, bisognava trovarlo e ricordo in una settimana è stato concepito. C'era un toto nome o sei andato dritto a Borghetti 1 euro? Forse un paio che adesso chiaramente non ricordo, però non ce ne erano molti. Alla base di tutto ciò, prima dei social, almeno stando alla tua voce mi sembri un grande attore, mi sbaglio? Ti sbagli chiaramente perché non sono un grande attore, probabilmente mi ha aiutato l'esperienza che ho vissuto in questi anni con attori di teatro, mi piace citare per esempio Giuseppe Gaeta che è stato un collaboratore storico di Borghetti 1 euro perché tra l'altro uno dei tagli in passato di Borghetti 1 euro era il realizzare delle gag e questo probabilmente mi ha aiutato, anche se il mio più grande maestro, io dico sempre, è stato lo specchio perché quando ho provato qualcosa davanti allo specchio in casa di mia madre trovavo sempre conforto. Figurati, io davanti allo specchio mi sento a San Siro, faccio dei grandi concerti. È vero, è vero. Io non so cantare, quindi su San Siro purtroppo... Siamo in due, non ti preoccupare. Basta che non ascolti nessuno, io vado di concerto. È un momento per i social molto caldo, anche questo weekend appena trascorso dalle torte in faccia alla Gioconda, agli audio di Vacchi, cosa cattura invece la tua attenzione che sei uno che sta dentro al mondo dei social? Ti dirò, ti sorprenderò di questo. Io sono ancora quello che scarica l'app del televideo sul telefono e ti spiego perché. Nonno, scusami, perché esiste? Esiste, tra l'altro c'è anche concorrenza nelle app del televideo, c'è ne tre o quattro che sono più... Io sono focalizzato sul contapassi, non guardo altre app, però informami. Il televideo invece funziona non soltanto per il superenalotto e per i risultati sportivi ma anche per raccogliere notizie e considerando che io spesso faccio parlare gli altri, ho bisogno di ispirazione soprattutto rispetto alle notizie che provengono insomma dal mondo in genere e quindi mi soffermo principalmente sui titoli, giornale, televideo, chiaramente sui social, valutando anche possibili tormentoni, facendo parlare spesso quelli che sono i personaggi che avete visto nel video di qualche minuto fa. E che vedremo ancora a brevissimo, infatti la mia prossima domanda è relativa al mondo delle serie televisive, ci sono delle serie che in te creano propria dipendenza? Guarda io penso che in assoluto, non soltanto in me, Gomorra nello specifico sia stata la serie che ha creato più dipendenza, veramente ci sentivamo tanti Jenny Savastano una volta che terminava quella puntata di 50 minuti. Io più Ciro devo dire. Jenny però ha quel fascino particolare e sostanzialmente ognuno di noi si rivedeva in qualche personaggio, a ognuno di noi piaceva interpretare qualcuno, io ci ho provato un po' con tutti, poi insomma non so se la cosa è venuta bene. Quindi la tua fissa è nel mondo di Gomorra? La serie tv che mi ha colpito particolarmente è quella che ha creato più tormentoni anche perché in qualche modo noi dobbiamo realizzare video che devono piacere a tutti i nostri video, devono essere funzionali per tutto, per il pubblico del web ma non solo e Gomorra è quella chiaramente in questo senso più famosa. E allora vediamo cosa ti ha fatto fare il mondo di Gomorra, Rvm. Sempre bello viaggiare, visitare posti nuovi, a te piace viaggiare? Sì. Allora stasera te la vi appigli a tua madre, il confratero è venuto tornata a Spagna. Eh? Tua madre è confratero? Nella vita la fiducia è tutto, ti reputi fedele? Sì. E allora Biv, fammi capisci ma posso fare te. Bravo. Com'è bene, grazie. Lei si è presentato a seggio elettorale per votare? Sempre, sempre. È un diritto, lo vedi? Io ti ha già mandato là perché dovevi trattare e ti avevi un barà. E mi pare che a qualcosa è servuto o no? Non serve niente, perché commento sempre noi. Fanno solo discussione tra di loro, ma non cambia niente. E allora stai con dentro. Volevo dire al signore che ha bevuto il dalbicchiere che gli è andata bene, che non era proprio una rivisitazione a 360 gradi. Per fortuna ho soltanto interpretato Don Pietro, però non l'ho fatto proprio come lui. Come sappiamo, come sappiamo. Raccontaci un po' del backstage. I maligni potrebbero dire che c'è qualcosa di costruito? Innanzitutto sono stato fortunato a beccare qualcuno che non aveva visto Comorra, perché sono in 7-8, più o meno, io ne ho intervistati tre. E soprattutto di quel video la cosa che mi ha colpito particolarmente è stata proprio la scena del bicchiere. Perché noi giriamo con questo flute di plastica in mano, con una bottiglietta d'acqua, non lo farà nessuno. Perché chi beve un bicchiere da uno sconosciuto e invece a primo colpo è andata bene. E lì chiaramente telecamera spenda, andiamo a casa perché la puntata è fatta. Assolutamente. A proposito di possibili haters, tu hai messo un po' le mani avanti, mi sei piaciuto un sacco, hai spiegato, perché ovviamente in pochi hanno inventato qualcosa realmente nel mondo dei social, sono rivisitazioni e quant'altro, perché molto del tuo gioco fanno le supercazzole. Certo. Passatemi il termine. Hai spiegato un po' le origini. Supercazzole che da noi si chiamano domande senza senso. Io credo che la comicità in genere sia un continuo corsi e ricorsi storici. Ci sono chiaramente dei maestri che noi rispettiamo, che conosciamo da Totoa, per esempio a me piace tantissimo Carlo Verduane. E chiaramente, secondo me è anche importante in qualche modo ispirarsi a quelli che sono, come dicevo, i maestri della comicità italiana. Io mi sono spesso ispirato a, non lo definisco un comico, un grandissimo intrattenitore che è Teoma Mucari con le sue supercazzole per come conduceva quell'angolo di no sense. Ma in realtà la supercazzole l'ha inventata Tognazzi. Chi l'ha portata, diciamo, alla maggiore ribalta è stato Tognazzi con amici miei. E quindi tante volte mi hanno contestato di imitare Teoma Mucari durante le nostre domande senza senso, ma in realtà la domanda senza senso è stata inventata da Tognazzi. Io come mezzo ho a disposizione il microfono e l'intervista, e quindi di conseguenza ho utilizzato questa forma comica attraverso il mio format. Abbiamo visto scorrere le immagini del tuo profilo Instagram, Borghetti1euro. Se dovessimo venirti a fare il following in futuro, cosa vedremo? Allora, vedrete sicuramente qualche video realizzato da queste parti, perché noi siamo particolarmente affezionati a questa piazza che ci dà sempre tantissime soddisfazioni. Al Barese piace molto parlare, ho notato questa cosa. Può sembrare assurdo, facciamo tante difficoltà a fare puntate a Napoli, nonostante il napoletano sia, diciamo, comico e filosofo, dico io, alla base, però il Barese, non so, ha questo istinto, ha questa risposta pronta che ci piace tantissimo. E sicuramente domande senza senso a proposito di quello che dicevamo prima, e poi chissà, insomma, cavalcheremo un po' l'onda dei tormentoni e delle notizie che verranno fuori nei prossimi mesi. Quali sono i temi caldi? San Nicola ovviamente è andato alla grande, la gente risponde assolutamente con piacere. Credo anche i temi sportivi. I temi sportivi perché un po' dividono l'opinione pubblica, perché sicuramente è un argomento che tendenzialmente tira sempre in Italia e che mette nelle condizioni agli intervistati di dare il meglio di sé. Ci siamo divertiti quasi un anno fa in occasione degli europei, che poi abbiamo vinto proprio qui a Bari, proprio perché è un argomento che veramente mette nelle condizioni di parlare, di essere, insomma, di far trasparire il proprio essere tifoso. Allora dovremmo avere un'ultima tua perla, vediamocela. Vorrei salutare il nostro mister Roberto Mancini? Saluto Roberto Mancini. Mister, questo è l'ultimo camionato che fai, poi te ne vai in pensione pure tu. Quasi giovane? Sì, tanto questo fa la fine di ventura, ma te lo dico io. E' forza Italia! Evviva! E' l'italiano! Sì, ce lo faremo! Ma ho già detto, e ce l'ho mai detto. Voglio salutare anche il mister Mancini. Mister Mancini? Sì. Questo è un po' in trasmissione? Eh beh, sì. Vabbè, tante care cose, arrivederci. Ciao, voglio presto, arrivederci. Mi dicono che il signore è ancora lì in corso di Vittorio Emanuele che aspetta di salutare. Sta aspettando di salutare. Il saluto è un po' la conclusione classica che noi diamo ai nostri video, perché non se l'aspettano, quindi restano un po' così. Tra l'altro c'è una sentenza emessa in questo video, perché poi realmente Mancini dopo l'Europeo ha fatto la fine di ventura, quindi il signore sul lungomare ci ha preso. Era un veggente. Esatto, esatto. Ma la 10 euro gliel'hai data? La 10 euro no, perché poi ci siamo accordati su una somma più bassa. Una birra ghiacciata? Adesso non posso dirlo, altrimenti svelo il cachet dei miei intervistati, però non era 10 euro. No, no, non svegliamoli, non svegliamoli. Secondo te, anche noi spesso andiamo nei borghi di Barivecchia dove le signore fanno le orecchiette, si rischia un po' un contenuto inflazionato. Sì, perché chiaramente i personaggi sono più o meno sempre gli stessi, però secondo me se si sceglie la giusta tematica, se si dà possibilità di dire cose diverse a questi personaggi, chiaramente viene fuori un video che è diverso rispetto ai precedenti. Un esempio lampante è quello della signora Rosa, che ormai è intervistata da più o meno 15 anni e i suoi tormentoni sono gli stessi da 15 anni, però ho notato che quando la mettiamo nelle condizioni di poter esprimere qualcosa di diverso, per esempio siamo stati in periodo di Natale quando lei ha salutato Chiara Ferranti anziché Chiara Ferranti, l'abbiamo introdotta come influencer delle orecchiette, si è divertita e ha creato tormentoni nuovi. Quindi è la chiave, il contenuto? Esatto, sono convinto che sia il contenuto anche perché il tormentone funziona per qualche anno, magari dopo tanti anni si va a rivedere, però a mio avviso secondo me è stanca dopo un po'. Parlavamo nel backstage della censura, di un po' abbottonare gli ospiti, gli interlocutori. Certo, più che abbottonarli, questa è una cosa che avviene in post-produzione, perché saluto il tecnico, il braccio e la lente di Borghetti in Euro, Andrea Sponsillo, con lui facciamo un grande lavoro di censura in questo senso, perché siamo molto attenti a quella che è la nostra linea editoriale, quella che è il nostro stile, anche la nostra etica, diamo tanta possibilità di parlare e di esprimersi senza filtri, però siamo attenti poi in post-produzione a inserire il contenuto giusto, perché a mio avviso comunque vanno rispettate tutte le categorie di persone quando si tratta di un argomento e soprattutto il social che è aperto a tutti è anche molto rischioso per un content creator sotto questo punto di vista. Mi dicevi che tu sei forestiero, vieni da Foggia. Vengo da Foggia, sì. Grazie mille per essere venuti. Con l'aereo, tra l'altro. Eh sì, immagino, è un attimo dall'aeroporto di Foggia. Tre minuti ci ho messo. Come mai privilegi venire a Bari oppure non il Gargano, la vostra zona? In realtà abbiamo realizzato tanti video a Foggia, anche qualcuno sul Gargano, però chiaramente tra i nostri obiettivi c'è quello di passare ad un'altra fascia di territorio, Bari, piuttosto che Roma, Napoli, Pescara, territori che abbiamo visitato in questi mesi proprio per diffondere un po' il verbo Borghetti 1 Euro per portare il nostro contenuto in altri territori. Allora, lunga vita a Borghetti 1 Euro. Grazie. Vuoi salutare San Nicola? Saluto San Nicola. Grazie mille per aver partecipato a questa puntata di Telebari Social Night. Grazie a te, è stato un piacere, grazie per l'invito. Grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo domani con tantissimi altri contenuti. Ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore, Loran e MoveU. Grazie a tutti.